E' un'azienda che si occupa del settore del benessere, delle spa, delle beauty farm. Facciamo formulazione di prodotti cosmetici di altissima qualità e anche metodi, massaggi e trattamenti, tutti finalizzati alla bellezza e al benessere. Nelle nostre formulazioni privilegiamo gli ingredienti naturali, siamo qui a Cosmoprof anche per presentare la nostra linea Organic Experience, una linea naturale che utilizza ingredienti provenienti da agricoltura biologica, sia per lo snellimento e il rassodamento del corpo, ma anche per i trattamenti anti-age, anti-invecchiamento del corpo. Overline è presente oramai da 22 anni al Cosmoprof e quest'anno pensiamo di presentare una delle novità più importanti dal punto di vista prettamente del trattamento di estetica, che è quello che interessa a noi. È un'apparecchiatura che o lavora nel trattamento di calore, ma cambiando la temperatura in una fascia che va dai 46 gradi ai 20 gradi, per cui rimanendo nell'onda del calore. L'abbiamo abbinata a varie tipologie di elettrostimolazione, drenante, drenomassaggio, elettroporazione per permettere ai prodotti di avere una penetrazione maggiore e per poter ottenere un rimodellamento globale del corpo, lavorando già sull'aspetto della tonificazione. Sono Claudio D'Emilio, titolare di Euracom, azienda che dal 1958 produce e distribuisce apparecchiature per estetica, prodotti cosmetici, prodotti professionali per la bronzatura. Siamo distributori per l'Italia di marchi come Starvac, per il massaggio endodermico, Cellutec per il rimodellamento del corpo e quest'anno introduciamo per la prima volta in Italia la linea Repessage, che è una linea a base di alghe direttamente dagli Stati Uniti. Una nuova linea su cui stiamo puntando molto e che ci sta dando tantissime soddisfazioni. Qui Italy è un'azienda giovane e dinamica, da oltre 20 anni nel settore dell'estetica produciamo direttamente apparecchiature e le commercializziamo tramite la nostra rete vendita. Quest'anno in occasione del colono abbiamo presentato due nuove tecnologie laser, una per epilazione progressivamente definitiva e una per il rimodellamento e la definizione delle forme corporee. In occasione sempre del colono abbiamo anche tutta la nostra gamma di apparecchiature. Ciao, io sono Mauro Morando, titolare della ditta RSP di Genova. Noi produciamo e siamo oggi in fiera con dei prodotti naturali molto particolari, tra i quali una bronzatura spray, chiamata anche lampada spray. È un prodotto completamente naturale, uno zucchero, che viene applicato sulla pelle e nell'arco di qualche ora produce una bronzatura simile a quella di due lampade. L'azienda produce anche altri prodotti naturali, una linea solare, una linea di abbronciatura, filtri e prodotti trattati. Buongiorno, sono Van Tiboli, il proprietario del marchio Tiboli che stiamo lanciando in Italia da un anno e sta sendo un successo devido ai nostri distributori che stanno impegnando tantissimo. Il 2013 sarà ancora meglio perché all'inizio le cose non sono tanto facili, però adesso è già lanciato il marchio, sarà veramente un grande successo nel 2013 e aspettiamo veramente tantissimo del mercato italiano. Il risultato adesso, grazie. Sono Marco Frisciotti, io sono il responsabile marketing Italia di GKE. Quello che stiamo cercando di fare in questo momento di mercato è di spostare un po' il focus della nostra comunicazione e del nostro prodotto da quello che è il mondo normale della geratina. Stiamo offrendo ai nostri saloni, stiamo offrendo ai nostri clienti un modo nuovo di interpretare questo servizio. Gli abbiamo proposto, come potete vedere dai materiali che abbiamo alle nostre spalle alcuni servizi che possono aiutarli a massimizzare al massimo l'investimento iniziale e che possono permettere a loro di posizionare e di usare questo prodotto su ogni testa che entra nel loro salone. Non siamo l'azienda solamente del lisciante, non siamo più l'azienda della geratina, siamo un'azienda che sta offrendo ai propri saloni e ai propri clienti un modo nuovo di affrontare il mercato e di affrontare questo momento particolare di mercato e questo al momento in Italia ci sta premiando parecchio. Il marchio Estrosa è un marchio made in Italy, parliamo di smalti semipermanenti, una durata di 21 giorni, un prodotto di alta qualità. Per quanto riguarda le novità del Cosmocrof abbiamo tirato fuori dei colori, siamo partiti con una trentina, siamo arrivati già a 64 colori, abbiamo tirato fuori una linea anche curativa, una lampada LED, tante novità. Estrosa è oggi commercializzato in tutta Italia, sta piacendo molto perché non sbecca, la sua lucentezza rimane anche addirittura dopo i 21 giorni che noi ufficialmente comunichiamo. Stiamo parlando di made in Italy e noi sotto questo aspetto diciamo che siamo bravi e ne dobbiamo essere anche orgogliosi. Sono Sonia Fedeli, Master Trainer LCN e sono qui con l'azienda che rappresento, un'azienda che è leader in questo settore da ben 26 anni. In particolare quest'anno abbiamo portato le nostre due collezioni, una si chiama Blossom Sorbet e sono quattro colori pastelli, molto primaverili, mentre l'altra collezione si chiama Shades of Desert. Sono quattro colori un po' più decisi, un po' più piccanti, dove rappresentiamo anche la spiaggia, il deserto. La nostra azienda produce prodotti in particolare per la cura delle mani, delle unghie e dei piedi. Abbiamo diversi colori, abbiamo 3500 articoli e siamo rappresentati in 75 paesi in tutto il mondo. .